In questo screencast vedremo come preparare una macchina virtuale di VirtualBox pronta per l'installazione del sistema operativo, nel nostro caso Ubuntu. Apriamo una nuova macchina virtuale, qui daremo un nome di Ubuntu, dopodiché abbiate cura di scegliere nella versione Ubuntu 64 bit, a meno che non abbiate una macchina di tipo molto vecchio. Assegnate una quantità di memoria accettabile, nel mio caso 2 GB, create un nuovo disco, la prima opzione va benissimo e allocatelo dinamicamente. Ok, sostanzialmente la macchina è pronta. Se, come nel mio caso, avete una versione di Ubuntu da installare su CD o DVD, la cosa è già pronta. Se invece avete una versione di Ubuntu su file, su file ISO, dovete a questo punto dire al sistema dove andare a caricare l'immagine del disco. E lo fate in questo modo qua. Per esempio questa.